Stamattina il questore ha visto l'agente ferito, così per fare i complimenti lei lo vedrà? Non sono ancora riuscito, però ci vedremo invece al contrario col questore e con il prefetto nei prossimi giorni. Ieri dicevo non c'è una soluzione radicalmente diversa da quello che stiamo facendo, c'è la volontà di continuare a rafforzare il controllo e poi la stazione centrale ha la sua importanza visto che ci passano milioni di persone.